Gentili telespettatori, buona giornata. Tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sarebbe già finita la tregua. C'è un retroscena che cambia, che cambia i fatti, che cambia le prospettive. Intanto è un qualcosa che non può durare. La prima ragione per quello che si sono detti. Le parole sono assolutamente importanti, sono anche assolutamente pesanti. Lasciano il segno. Le parole dette da Grillo a Conte vengono comunque lasciate anche sul blog e appartengono a quella categoria di parole che sono assolutamente pesanti. Pesanti senza possibilità di fraintendimenti o di a Perge mai non hai capito bene. È stato chiarissimo Beppe Grillo il 29 di giugno ha proprio messo per iscritto che Conte non potrà risolvere i problemi politici perché non ne ha visione politica, non ha capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazioni, non ha capacità di innovazione. Praticamente ha detto che non è buono a nulla in politica. Mettersi nelle sue mani è come pensare di poter avere la pasticca per far credere a tutti che i problemi sono spariti e che dia l'illusione, almeno per qualche mese, forse non di più, che sia più potenti di quello che in realtà si è davvero. Pensando che Conte la sia la persona giusta, poi gli aveva anche detto ma prova a candidarti alle supplettive e vediamo tutto questo consenso dov'è. Conte il giorno prima aveva detto che serve una leadership solida, ossia quella che Grillo non è in grado di garantire e che una diarchia tra loro non sarebbe funzionale. E poi ci sarebbero le paroline che si sarebbero dette tra di loro e che poi non sono trapelate alla stampa. Mentre la soluzione di quei sette che lui chiamava i sette saggi, tra cui anche Fico e Di Maio, quindi capite che di saggio non c'è, c'è veramente poco, sono riusciti a fare riavvicinare i due e lo obbliga a convivere con un custode dei valori, Conte dovrà convivere con il custode dei valori, Cesare per Grillo, che avrà potere di intervenire su Conte e i suoi e si azzarderanno a deviare dalla retta via, proponendo persino la loro espulsione. La diarchia di cui parlava Conte c'è e lui si è sottoposto a questo perché Grillo può licenziare Conte quando vuole. Nessuno dei due ha fiducia nell'altro, Conte non ha nessuna fiducia in Grillo perché Conte deve fare il capo assoluto e Grillo non ha nessuna fiducia in Conte perché Conte ha cercato e parzialmente riuscito a portargli via mezza, metà del movimento. Quindi quello che si sono detti, le parole che sono uscite non possono essere cancellate. Quindi viene fuori un accordo all'insegna di risentimenti, bugie. Ecco, questo è il presupposto perfetto per il fallimento. Diciamo che poi ci sono cose che non sono mai state dette. La giustizia, la Cina, il grande sponsor di Grillo nei confronti del quale Conte, preoccupato di non sfigurare agli occhi di chi lo osserva da Washington, ha fatto sapere di nutrire un forte imbarazzo. Chi decide su questi argomenti? Il capo politico, ammesso che davvero si possa chiamare tale, o il garante dei lavori e dei valori, visto che la politica estera e soprattutto la giustizia dovrebbero essere nel DNA del movimento? Ma si va anche oltre la rivalità tra i due, perché riguarda anche l'attenuto del governo Draghi, determinati a bloccare, quantomeno stravolgere, quella riforma della prescrizione firmata da Marta Cartabia, che lui reputa un'anomalia italiana e che invece Di Maio, Patuanelli e gli altri ministri hanno votato a Palazzo Chigi su indicazione di Grillo. Pertanto Grillo ha chiesto, dopo la telefonata di Draghi, ai suoi ministri di votare per questa riforma della giustizia, perché sennò Draghi se ne sarebbe andato. Quindi da una parte seguono le direttive di Grillo, dall'altra parte c'è Conte che ha promesso di dare battaglia su questa riforma della giustizia che per lui non funziona, non funziona in nessun aspetto, è un'anomalia tutta italiana. Bene. Il loro partito avrebbe proposto solo limitate correzioni tecniche al testo. La tregua all'interno del Movimento 5 Stelle, insomma per avere un unico grande pregio, convertire al Movimento di non sfasciarsi adesso, che gli permette di mantenere salda la presa sulle poltrone ministeriali e arrivare più o meno integri al 3 agosto. Quel giorno inizierà il semestre bianco, durante il quale Sergio Mattarella, qualunque cosa accadrà, non potrà sciogliere le camere. Il periodo perfetto per chi vuole regolare i conti dentro il Movimento 5 Stelle, con Draghi e con la Cartabia, senza ritrovarsi disoccupato troppo presto. Però la disoccupazione arriverebbe comunque dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Il vero grillino punta ad arrivare a fine legislazione, non alla fine del semestre bianco con l'elezione di Draghi, perché vorrebbe dire comunque avere lo stipendio accorciato. Ecco, diciamo che un conte che vuole avere le mani libere di prendersi le sue rivincite con Draghi, lo stai sereno, conte dice mi ha portato via il posto di lavoro, adesso gli faccio vedere io. Si scontra con proprio grill che ha voluto Draghi, che ha voluto la riforma della giustizia. Pertanto qui la tregua sarebbe comunque già finita, forse non è mai cominciata, è cominciata già male questa strana avventura tra due persone che si sono confrontate con gli avvocati e con i notai. Incredibile, c'è da rimanere senza parole. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, qui sempre su Teleitalia. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete, al quale vi invito ad iscrivervi. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.